Sono molto felice e anche molto orgogliosa di avere una platea così bene, un posto che è bellissimo e che mi è caro per essere uno dei gioielli della nostra Italia, della nostra Foscani, quindi mi è sembrata una cosa molto di buon augurio essere qui a Cortona con il libro che esce tra pochi giorni e il 25 febbraio e il sindaco diceva, mi interessa capire come si può essere delle donne molto impegnate nel lavoro, avere delle responsabilità e più solo sa un sindaco che responsabilità ha, è un lavoro che porta un sacco di grattacami e di grane, lo sappiamo, di continuare ad avere una vita familiare, amicale, tutte insieme. È il tormento, il dilemma nel quale si ritrovano le donne di qualsiasi generazione, perché vedrete se leggerete il libro ci sono confessioni e consigli di donne di 70 anni e di donne di 30 anni, tutte con delle responsabilità importanti nella vita e tutte con la stessa problematica, però la cosa bella è che adesso ci sono delle donne alle quali chiedere consigli, perché prima, 50 anni fa, non c'erano donne che si erano poste dei problemi e li avevano anche risolti, erano diventate appunto sindaco, capitani d'azienda o direttori generali di grandi aziende, non ce n'erano, adesso ci sono ed è bello vedere come con generosità queste donne che ho intervistato, raccontano come si fa a superare al meglio tutte le problematiche che si presentano inevitabilmente a una donna che decida di fare tutte quelle cose, lavorare e occuparsi di tutto il resto della vita. Qui a Cortona con me c'è Isabella Palautano, che è una manager molto apprezzata, direttore della comunicazione, di molto altro social responsibility e molto altro di una grande azienda francese, Assicurazioni AXA. Isabella è stata mia compara di corso in un'esperienza bellissima, voluta da un'associazione che si chiama Loredi, che mette insieme 150 grandi aziende italiane, le più grandi, italiane internazionali, per promuovere la qualità di genere nelle aziende. Spesso e volentieri li identifichiamo come dominio, forza, che stava forse concepita, presentata così e radicata nel nostro DNA in questo modo, però potrei sentire molte altre cose, come anche scrivono altre testimoni al mio libro. Raccontaci perché proprio parlare del potere delle donne, è una parola che un'ultica così tanto. Allora, intanto io vedo potere nel senso elettrico, l'energia, però l'energia delle donne non era proprio un titolo, Feltrinelli si è partuta fino all'ultimo perché usassimo proprio questo titolo, il potere delle donne, inteso come la forza, l'energia, la voglia di trasmettere le cose. Perché avete paura? Perché avete paura ancora ad usare questa parola, potere? Perché vi fa tanta allergia? In realtà non è che la parola potere significa sempre prevaricazione contro il più debole. La parola potere significa avere la possibilità di fare le cose. E se c'è un fatto proprio non discutibile è che le donne, quando si mettono in condizioni di fare, poi i risultati li portano. Ciascuna di queste ha risposto con sincerità le mie domande. E tante cose che mi hanno detto, per esempio, di come sono riuscite a fare carriera o a non farsi superare, per sbaglio, o neanche tanto per sbaglio da quelli che meritavano, nemmeno tante cose. Se io avessi avuto la possibilità di farvele dire da queste stesse persone trent'anni fa, eh, avrei fatto molti miei errori, molti miei errori. Perché questo è il punto. Avere oggi delle role model, delle donne in cui specchiarsi, mi consente di sentirsi meno sole. Quando io avevo trent'anni, cara Isabella, non avevo nessuna donna potente, importante, nell'azienda in cui lavoravo, a chiedere un consiglio. Come mi posso comportare con questo? Cosa posso fare? Non ce l'avevo. Adesso ci sono. E questo libro ha proprio questo senso. Di raccontare alle giovani donne o alle loro amame o alle loro sono alle maggiori come si superano i momenti difficili nella carriera e nella vita di tutti i giorni, almeno secondo sono due donne che voi avete acquistato. Grazie a tutti e a tutti i giorni. Grazie a tutti.